Ecco qua, bellissima, sorridente, la nostra Natalia, nove anni, che ci canta, che cosa? Senza fare sen serio di Malika Ianni. E allora vogliamo vedere le mani alzate di Casciana con la nostra cantante Natalia Rotani. Vai Natalia, buca al lupo! C'è chi aspetta un miracolo e chi invece è l'amor. Chi chiede pace a un sonnifero, chi dorme solo in metro. Letto può passare tempo, ma se tu è di tempo, poi tu scappa a tempo. D'attimo, sento come il movimento che se fai strato, perdi il tuo momento. Perdi l'attimo e chi guarda le nuvole e chi aspetta il telefono. Chi ti risponde sempre però, chi non sa dire di no. Letto può passare tempo, ma se prendi tempo, poi mi scappa a tempo. L'attimo, sento come il movimento che se fai strato, perdi il tuo momento. Perdi l'attimo. Tu non lo sai di come vorrei, ridurre tutto ad un giorno di sole. Tu non lo sai di come vorrei, da per guardare indietro. E l'applauso senza fare sul serio, senza fare sul serio. E l'applauso, ci voleva il finale. Complimenti, complimenti Natalia. Nove anni, ama ascoltare la musica, come tutti i bambini della sua età. E poi, una cosa stupenda, lei ama fare volontariato con la Croce Rossa italiana. Fate un bel applauso perché se lo merita, oltre a tutta la sua arte, anche una bravissima bambina. Ah, ma è il nuoto, vero? Sei una pesciolina, quindi, sai nuotare bene. Sì. Senti, e poi una cosa speciale, che, sai quando lo diciamo? Se dovesse andare bene, lo diciamo dopo questa cosa, va bene? Vediamo. Allora, noi facciamo l'applauso a Natalia Rodani. Chi vuoi salutare, Natalia? La mia famiglia e la mia zia. Ah, la famiglia e la mia zia. E soprattutto il mio maestro, Marco Del Freo. E lo salutiamo, Marco Del Freo. Fate l'applauso a Natalia Rodani. Grazie. Bellissima e sorridente. Buongiorno a Natalia Rodani.